Domani alle 15 alla Giuseppe Capozza, l'olfatto dei giocatori del Casarano sarà impregnato di un forte profumo di derby, il primo dei tanti che si giocheranno in questo campionato. L'avversario sarà il Fasano, il cui ultimo precedente casalingo risale lo scorso dicembre, quando le due formazioni si diedero battaglia sino al 3-2 finale di marca rossa-azzurra. La gara di ritorno non viene giocata per l'interruzione di fine campionato dovuto al Covid e per il Casarano, questa, potrebbe essere l'occasione per ribadire il concetto e mettere il punto esclamativo su un'altra vittoria. Il successo non sarebbe fine solo a se stesso, ma anche utile per riannodare il filo della vittoria, spezzato nella trasferta del San Ciro di Portici. Un buon pareggio sia chiaro, ma bisogna tornare alla vittoria e replicare la buona prova d'esordio con il Real Agraversa. Ad arbitrare l'incontro sarà il toscano Matteo Cianci della sezione di Carrara.